è ormai un mese che sono a casa lavoro da casa vivo in casa faccio la spesa da casa insomma io sto a casa sto benissimo eh sì sì cioè senti colleghi che sono un po in crisi perché da soli io ho trovato il mio equilibrio perché è un attimo sbloccare in questa situazione vero ma perché tu sei uno dei piedi per terra sì per terra scusate un po rozzo ma cosa ci fate dentro qua ci siamo capiti adesso vedo una call fuori dai piedi eh sì 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 sono a casa da solo certo è un mese che sono chiuso in casa certo no non viene mai nessuno ma non è un problema ho il mio equilibrio sto bene grazie